Rischio difendere drone pronto Carica d'inflazione piazzata Scani dall'esplosione Carica speciale alla larga Piazza una carica e grappolo Carica Prendete il contenitore di biorischio Attività nemica Neutralizzate la minaccia Attività nemica Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Dimenticatevi del contenitore Il sensore è rimasto a vita Difensori neutralizzati Vittoria per gli attaccanti